Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Spada. Nello scorso episodio siamo stati nel bosco assopito e abbiamo sfidato per l'ultima volta Hope insieme al suo nuovo compagno, Zamazenta. Comunque li abbiamo sconfitti e Hope ha deciso di diventare un professore Pokémon al posto di diventare un campione. Comunque, a parte questo abbiamo finito finalmente la storia principale, anzi anche il dopo storia e ora ci sono le cose extra. Innanzitutto ho visto un po' di cose nel mio account e ce ne sono abbastanza anche se poche, ce ne sono abbastanza. La prima innanzitutto è qui a Goalwick, ovvero la Torre Lotta. Cosa c'è nella Torre Lotta? Ovviamente Lotte. E sì, lo so, ma non lo farò in quest'episodio. Allora, dovrebbe essere da qualche parte, tipo te. Cosa desideri? Ok, qua ci sono altri MT. E mamma mia se sono buone. Soprattutto con chi l'ama. Davvero, davvero buona. Poi vabbè, rimbalzo, eccetera, eccetera. Tante, tante cose. Davvero tante. Comunque, quello che interessa a me non è questo, ma è lei. Benvenuto alla Torre Lotta. Cosa posso fare per te? Innanzitutto spiegami come funziona. La Torre Lotta, come dice il nome, è una struttura dedicata alle lotte Pokémon. Qui potrai lottare con le stesse regole delle lotte competitive. Vincendo le lotte potrai ottenere premi, come caramelle rare e punti lotta. Se puoi lottare, si può lottare anche con squadre a nolo. Quindi non preoccuparti se non hai ancora creato la squadra perfetta. Cosa posso fare per te? Lottare. Quali regole scegli? E ora ci sono due strutture. A singolo e a doppio. Praticamente è la stessa cosa. Solamente che una è un Pokémon, l'altro sono due. Semplice, no? Allora, singolo. Tanto farò vedere entrambi. E ora dobbiamo scegliere chi usare. Però... Possiamo usare anche i leggendari. E questa secondo me è una cosa molto P. Allora, direi di usare... Zamazenta e Zamazenta Zachan. No. Poi Eternatus. Tanto per sbrigare l'episodio. Perché tanto farò vedere la torrelotta. E basta. Non farò vedere altro. E no, questi sono al 17. Assolutamente no. E poi chi? Non so chi. Devo mettere un altro Pokémon. Perché devono essere in tre. Anzi. Facciamo così. Allora. Mettiamo nel box. Allora, nello scorso episodio... Innanzitutto chi sono? Allora, Drago Veleno e Folletto Acciaio. Quindi non devo usare né Virmarna né Shisui. Lui no perché ha veleno. Ehm... 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 Hidrozer. Allora. Mettiamolo qui. E adesso... Riparliamo con T. Ok. Registriamo Pokémon. E mettiamo T. Allora... Allora, scegliamo questa. Ovviamente. Uno... Due... E tre. Molto bene. Prego, per di qua. Facciamo a gara a chi ha i Pokémon più carini. Comunque ve l'ho già detto di iscrivervi, di lasciare un mi piace o non mi piace. Dovrei averlo già detto. Comunque, Monica! Che manderò a Zraid. Ed eccoci qui. Allora, i Pokémon saranno tutti al 50. Con le statistiche al 50. E... Niente. Dovete solamente sconfiggerli tutti. Dal primo all'ultimo. E sinceramente quei Pokémon leggendari, lo so, è un po' troppo P, ma... Tanto per... Allora, Portergeist. Sgranocchio e ciao ciao. Comunque, se volete testare un Pokémon per il competitivo, questo è un posto perfetto. Veramente, veramente perfetto. Allora, Espion... Questo è un po' un problema. No, neanche Sgranocchio. Perfetto, è la prima andata. Allora, non ci importa del dialogo. Ed ecco due punti lotta. Vuoi continuare a lottare? Certo. E ora il prossimo. Così all'infinito sarà. Però in realtà fino a un certo punto. Allora, Glaceon. Allora, Spada Solenne. Ok, ha resistito. Infatti, Glaceon, se non erro, dovrebbe essere abbastanza resistente un po'. Aumento attacco speciale. Vento gelato. Non dovrebbe farmi nulla. Meh. Drop di velocità. Allora. Sgranocchio. Così facendo evito di usare un'altra mossa. Perfetto. Comunque ho stillato una leggera lista per i prossimi episodi. Che vi spiegherò dopo che episodio ci sarà domani. Allora, Darmanitan. Taglio maestoso. Sbadiglio. Ok. Perfetto. Buttato giù. Allora, questo turno coso si sveglia? Si addormenta. E ora c'è Atrin. E ora c'è Atrin. Allora, per Atrin... Taglio maestoso, ovviamente. E abbiamo finito la seconda lotta. Così fino alla fine. Sarà sempre così. Ripetitivo sempre. Comunque, complimenti. Sei salito al grado 2. Meriti una ricompensa per rendere onore al tuo nuovo grado. Ed ecco fatto. Avete superato il primo grado. Che se non erro, ripeto, è il più semplice. In parte. Comunque, qui ci sono tutti gli oggetti. La capsula abilità che serve per cambiare l'abilità ai Pokémon. Però attenzione, se volete ottenere le abilità nascoste, ve lo spiegherò molto più in là. Perché questa capsula cambia l'abilità, ma non cambia nell'abilità nascosta. Perché l'abilità nascosta è una terza abilità. Quindi attenti. E poi qua, tappo d'argento che serviranno non qui ora. Zaino fuga, questo è un altro strumento bono. Bono. Che è stato introdotto in questo gioco. Che sinceramente non mi ricordo il suo effetto. Strumento da dare a un Pokémon se le sue statistiche diminuiscono e viene sostituito da un altro Pokémon della squadra. E infatti OP. Allora. Distor servizio. Sì, che quando c'è distorto zona, diminuisce di 2 se non erro lo stadio di velocità. No, di 1. Di 1 o di 2, non mi ricordo. Comunque lo farò allentare. E basta. Gli oggetti li leggete. Comunque. Zaino fuga è veramente buono. Perché posso dare a un Pokémon zuffa che diminuisce le difese e poi può essere switchato. È una cosa davvero buona. Ora, qui invece ci sono le mente. La schiva aumenta l'attacco anziché la difesa e diminuisce la difesa. La decisa aumenta l'attacco e diminuisce l'attacco speciale. La birbona aumenta l'attacco e diminuisce l'attacco speciale. Quella seria non è che serva a tanto. Mette solo la natura neutra. Quindi sì, non è che serva a tanto. Però se volete un Pokémon con molta difficoltà da ottenere, tenetevi le mente, ve lo assicuro. Tenetevele. Comunque, di qua invece c'è l'altro tizio. Questo è quello dell'allenamento pro. I Pokémon portati al 100 dovete portarli da lui. E avere tanti tappi. O i tappi d'argento o i tappi d'oro. Questo ovviamente ve lo spiegherò più in là, come ho già detto. Lui non ho capito a cosa serve. Vuoi prendere in prestito una delle mie squadre lotta? Certo. Che squadra vuoi prendere in prestito? Equilibrio. Ti interessa questa squadra lotta? Voglio questa squadra. Equilibrio. Buona fortuna. Ok. Quindi cosa fa? Ah. Ah. Ok, ho capito. Vi dà le squadre tanto per provarle. Per vedere quale può essere quello migliore per il competitivo. Ok. Infatti hanno l'annoleggio, vabbè. Sì, dai, proviamolo tanto per. Facciamone ancora. Allora. Perché sì, siamo a malapena a 13 minuti. Allora, Snorlax. Posso vedere le info, vero? Perfetto. Intrapasso, vabbè. Questa OP come lo schifo. Di natura neutra, purtroppo. Eh, se riduceva l'attacco speciale, aumentava la difesa o la velocità, era ancora più OP. O anche l'attacco. Forse l'attacco. Allora, Drago Frecce, Spettro Tuffo, Drago Bolide. Ok. E Retromarcia. Sdoppiatore, Terremoto, Levit... Maledizione, Riciclo. Riciclo, far utilizzare lo strumento. Ok, buono. Però l'attacco speciale a Snorlax non è che serve a tanto, quindi... Sì. Mimicchio è la cosa più OP del mondo. Cioè. Vabbè, guardatela l'attacco. Comunque l'attacco fisico, l'attacco speciale a Mimicchio non serve assolutamente a niente. Quindi se lo trovate, che riduca uno e che aumenti l'altro. Allora. Vampata Invertibolt. Perché Invertibolt? Vabbè. Vabbè, Ippodon. Che se non erro ha la sua abilità... Se abbia fiume. Ok. Questo torna, è sempre così con Ippodon. Ed è G-Slash perché c'ha palla ombra. Vabbè. Perché più attacco speciale che attacco fisico? Ok. Sono io forse che mi ricordo male? Vabbè. Allora. Sì, dai, usiamo loro. Allora. Mimicchio. Tanto per farvi vedere la cosa più OP del mondo. Poi, chi altri? Rotom. Tanto per. Allora, Mimicchio di sicuro. Dragapult. Vai. E... Sono indeciso tra Snorlax o Rotom. Rotom, dai. E così comunque fino alla fine. Non è che cambia nulla. È sempre la solita torrelotta. Per chi ha conosciuto le torrelotte, è così. Allora. Golisopod. Eh, te sei tosto. Però io c'ho Mimicchio. Allora. Ehm. Allora. Direi furtivo ombra. Anche se sto usando male questo Mimicchio. Perché Mimicchio di norma deve essere boostato e poi fare molti danni. Ronzi, ok. E ora effetto Fantasmanto. Per chi non sa come funziona Mimicchio, Fantasmanto assorbe il primo attacco che gli viene fatto. Ed è molto buono. Allora. Ehm. Carineria. Ok, ora dovrebbe switchare, tipo. Perfetto, passo indietro. E ora lancia. Ok, Basculin. Direi danza spada anch'io. Cioè, uso danza spada tanto per. Così c'ho l'attacco più due. E di norma per fare un Mimicchio competitivo. Ok. Dicevo, per fare un Mimicchio competitivo dovete aumentargli al massimo la velocità e al massimo l'attacco fisico. Così facendo, danza spada, vi viene buttato giù il Fantasmanto e poi distruggete con un brardiglio Carineria. Direi Carineria, perché ora dovrei distruggerlo, tipo. Esatto. Ora non c'è Pokémon che tenga Mimicchio. Però il problema è che c'ho l'Assorbisfera che leva tanti PS. Almeno Gorisopoda deve essere buttato giù. Quindi. Furtivo, furtivo ombra. Ombra artiglie dovrebbe bastare. Perfetto. Buttato giù. E io vado giù. Per via di Assorbisfera. Perché sì, comunque Assorbisfera vi manda sempre KO. Perché assorbe punti vita per potenziarvi l'attacco in maniera devastante. Allora, voi che oggetti avete? Erba chiara. Ok. E sto alla scelta. Direi di mandare lui. Ok, Pelipper è abbastanza veloce. Ma non tanto. E ciao. Perfetto. Allora. Abbiamo vinto. E altri due punti. Allora, continuiamo. Non ci importa il dialogo, grazie. Perché dicono cose solamente a caso. Alla fine. È sempre una cosa del personaggio. Io ti odio. Ti odio. Allora. Danza spada. Protezione. Ok. Va bene, va bene. Danza spada. Ancora. Fossa. Va benissimo. Va benissimo. Non importa. Attacco a più... A più quattro. Ora. Uso un'altra volta. Fossa. Va bene. Non importa. Tanto colpisci solo il fantasmanto. Che va giù. E comunque non ho capito perché ha perso vita. Controlliamo un attimo. Perché forse hanno aggiornato Mimicchio. Lo proteggerà un singolo attacco. Potenzia le mosse a scapito dei PS per ogni colpo. Non capisco allora perché ha perso vita. Vabbè. Allora. Attacco a più 6. Quindi pensate voi ora quanta è forte questo Mimicchio. Furti Vombra. Ah, protezione. Eh, vabbè. Allora. Attaccato. Ok. Furti Vombra. Shottato. Ora Mimicchio può shottare chiunque. Ok. Allora. Prepotenza. Vabbè. Uno in meno di attacco. Ma tanto abbiamo 5 in più. Quindi dovrebbe bastare. Furti Vombra. Buttato giù anche questo. Ripeto. Mimicchio è un carro armato. Non c'è niente. Non c'è niente può fermare Mimicchio. Togekiss. Forse Togekiss può fermarci. Ah no è vero. È volante folletto. Prima invece era normale volante. Volante. Furti Vombra. E ciao ciao. Ok no. Forse ci fa male. Vi torzo l'elmo. Aia. Cavolo. Mannaggia. Lui non posso giocarlo per niente. Proviamo Rotom. Vampata. E abbiamo vinto. Allora altri due punti. Grazie. E salite al grado 3. Caramella rara. E altri punti lotta. Sarà sempre così. E sarà sempre più facile. Se portate i vostri Pokémon competitivi. Con strategie perfette e company. Allora. Direi di fare ancora. Tanto per. Perché succede una cosa molto particolare. Allora. Stavolta però direi di usare. Edgy Slash. O forse. Anzi no. Usiamo loro dai. Ok. Perché c'è una cosa particolare. Che può succedere. Che io spero tanto succeda. Tanto per. Allora. Perché poi dopo questo. Farvi vedere anche quella in doppio. Quindi sì. Ci metterò un po'. E ovviamente inizia tutto male. Allora. Veleno croce. Per favore. Non gli faccio praticamente niente. Maggi brilli o usa. Risorzo l'elmo. Ok. Me lo manda KO. No. In realtà no. Bene. Lancia fiamme. Scottalo. Brucialo. Fai brutto colpo. Niente. Vabbè è scottato. È tanta roba. Ok. Allora. Veleno croce. E dovrebbe bastare. Tipo. Ti prego. Dimmi che basta. Ok. Comunque. Piccola cosa. Per chi non l'avesse notato. Eternatus. E. Zamazenta. Cavolo. Non possono. Dynamazzizzarsi. Perché. Sennò. Diventerebbero troppo. P. Sinceramente. Diventerebbero veramente. Troppo. Perché già. Zachan. C'ha un attacco fisico. Altissimo. E poi. Sì. Allora. Geoforza. Questo farà male. Ok. Allora. Vai. Protezione. Ok. Questo viene parato. Grazie mille. Allora. Vai di nuovo. E ora. K.O. Perfetto. Allora. Piccola cosa. Righigalit. Intanto. Vabbè. L'abilità a vigore. Lo sapevo. Ce l'avevi. E. È di tipo roccia. Non è terra roccia. Io mi ricordavo. Fosse terra roccia. E invece. Non lo era. Mi sono. Sono veramente rimasto. Vasito. Su questa cosa. Comunque. Spada solenne. Dovrebbe bastare. Come dire. Esatto. Ok. Flygon. Va bene. Taglio maestoso. Non dovrebbe finirlo. Però. Ah. Invece l'ha finito. Wow. Ok. Vabbè. Battuto. Oh finalmente. Dream. Sapevo che la. Che. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ad arrivare fin qui. Fin qua su. Non sono più il campione. Ma non significa. Che mi. Che mi farò battere facilmente. Sei pronto? Ed ecco. Dandale. Che manda Mr. Rhyme. Che manda Mr. Rhyme. Allora. Mr. Rhyme è la forma evoluta. Di Mr. Mime. Di Galar. Allora. Eh. Acce. Eh no. Ghiaccio. Ghiaccio psico. Allora. Lancia fiamme. Brucia pelo. Vabbè. Quanto lo sapevo che usavi brucia pelo. Allora. Vai. Lo sapevo. Purtroppo resiste molto bene Mr. Rhyme. Ma. E. Devasta. Veramente devasta questo coso. Allora. Vai. Buttalo giù. Perfetto. E ora c'ha Arizard. Cannone Dynamax. Perfetto. Cavolo Comunque il cannone Dynamax è potente È tipo Ehm Taglio maestoso solo Che è speciale e fa molto Danno allora Idrozer Allora quanta velocità aveva? Solo per vedere e ridere Allora 151 146 Ok Dynamax e Dynaflusso Ehm Ok, buttato giù Mamma mia Ora dovrebbe essere la cosa tutta in discesa Alla fine Oh mamma mia Esatto, edgy slash Allora, dynaflusso E dovrebbe bastare Vabbè, scudo reale, resisti solo un turno Il turno dopo devi per forza attaccare E comunque il danno viene solo ridotto E basta Questa cosa non si è mai vista Anche se in realtà si è già vista in altri giochi Ma questa è un'altra cosa Allora, dynaflusso Accendi lotta Ma tanto dovrei essere più veloce di te E invece no Vabbè, tanto non mi fai nulla Complimenti campione Lottare con te è un'esperienza unica al mondo Come ricompensa per la tua vittoria Potrai salire di grado Alla torrelotta Sei incredibile, Dream Ero sicuro che superare Il primo giardino della torrelotta Sarebbe stato un gioco da ragazzi Per te e per i tuoi Pokémon Ma non pensare che sia finita qui Ti aspettano molte altre sfide Alla torrelotta Ti sei guadagnato Una delle mie card rare Per la tua collezione Complimenti Sei salito al grado 4 Hai raggiunto la classe Pokéball Meriti una ricompensa per rendere onore al tuo nuovo grado Perfetto E adesso quanti punti abbiamo? 23 Siamo a metà per prendere una menta Quanto ci vuole, eh? Quanto ci vuole Allora, una cosa particolare Che tanto Adesso farò il taglio E dovrò superarmi tutte le cose È le mente Voglio farvele vedere Allora Menta audace Aumento attacco diminuisce velocità Questa se avete un Pokémon Veramente lento Può esservi utile e competitivo Però Diminuire la velocità in competitivo Non serve praticamente a nulla Però il tappo d'argento Intanto Quanta roba devo vendere Allora il tappo d'argento Come ho già detto Vi serve da lui Non ve lo spiegherò però in questo episodio Ve lo spiegherò in un altro Allora Adesso farò un taglio Anzi Vi farò vedere solo una lotta E poi Farò il taglio E sì Allora Chi posso usare? Anzi Meglio mettere un altro Pokémon Non si sa mai Nella squadra Allora Allora Chi posso mettere? Shenlong Anzi no Metto Emi Metto Emi Ehm Ehm Allora Allora Come si Switcha La cosa Ok Allora Te Vieni qui E adesso Voglio lottare Doppio Con Idrozer Ed Emi Zacian Ed Eternatus Comunque sì Questa cosa del Come si dice Del Pokémon leggendario Che si possono usare leggendari Forse è un po' troppo picco Ma è cosa Allora Sì Va bene Paolo Che mandi in campo Pikachu No Ok Allora Geloraggio Anzi Ehm Direi intanto Tiro Mirato Su di te E su quell'altro Questo Tanto per vi faccio vedere La prima sfida Allora Ok Ci fa abbastanza male Non farmi tentennare Ok Belenpuntura Avvelena No Rete vischiosa No Allora Rete vischiosa È brutta Perché ora Che Se faccio lo switch Diminuisce di molto La velocità È davvero Una rottura Allora Gelo raggio Diminuisce Comunque Comunque L'amicizia Non dovrebbe funzionare Qua La cosa di amicizia Del boost Ok Doppio One shot E adesso C'è un problema C'è un grande problema Ora la velocità Diminuisce Del pokemon Che mando in campo Direi Abbassamento Abbassamento Di velocità Grazie Però Innalzamento Dell'attacco Allora Taglio maestoso Su shinotic E Questo Su di te Belenpuntura Ok Avvelenato Perfetto Ora Taglio maestoso E dovrebbe essere Finita Praticamente Esatto Allora Shinotic 2KO Scarica Va bene Ok Ricordo che Vikavolt È molto potente In attacco speciale Molto molto potente Ok Ora abbiamo Praticamente Finito Allora Sgranocchio Non è che importa Tanto E Belenpuntura Abbiamo assolutamente Vinto Perché sono andato A sinistra Non lo so Allora KO E adesso Direi che Tra due secondi Faccio il taglio E ci vediamo All'ultima lotta Se ovviamente Ovviamente Ce la faccio Ok Mamma mia Quanto ci ho messo Dream Saperevo che ce l'avresti fatta Ad arrivare Fin quassù Non sono più il campione Ma non significa Che mi farò battere Facilmente Sei pronto? E sfida di nuovo Di Dandel E adesso Ancora Dandel Sì Quando state per salire Di grado Ci sarà sempre La sfida contro Dandel Allora Sgranocchio Ovviamente su di te E Allora No 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 Facciamo così A cambio Anzi Allora Taglio maestoso Su di lui E lancia fiamme Su quell'altro Così almeno Se usa Coso Lo posso switchare Cioè Posso usare L'attacco a distanza Se usa scudo reale Però Ok Ho visto Non ha usato Scudo reale All'inizio Quindi O cambia forma Ora Assolutamente No Ok Mangia la sua bacca D'accordo Baccacedro Che è addirittura potente Si vuole boostare Grande Allora Allora Inteleon Ok Comunque piccola cosa Dandel può avere accesso a tutti i tipi di starter Anche con l'abilità Nascosta Ovvero Faccio ad esempio Cinderace Quello di tipo fuoco Può avere l'abilità Libero Che gli permette di switchare La sua Come si chiama Il suo tipo A seconda della mossa Quindi può diventare Stabbato E soprattutto Può cambiare tipo È tanta roba Allora Direi Taglio Maestoso Ah no è vero Spada solenne Facciamo Anche se Centeleon purtroppo è veramente veloce Questo subite Perfetto Scudo reale Così almeno Oh no Maremma che botta Allora Vai Perfetto KO E siamo al terzo Allora Lancia fiamme che ovviamente è parato Prossimo Avrà sempre Charizard Quindi sì Allora Direi Questo su di te E Voglio provare ad avvelenarlo Lo so che mi andrà a KO Lo so certamente No No per poco Ok Diminumità difesa Ve le incroce Che però è parato Ovviamente Cosa usa? Spada Ma la vuoi smettere di boostarti? Cioè Sei già A più di 4 D'attacco Allora Questo su di te Ehm No voglio switchare Mi voglio turnare Eternatus Mando Emi Tanto per Sgranocchio Ok Allora Questo è il secondo turno Della Gigamax Comunque Gigavampa Ehm Ehm Come si dice Fa effetto turbo fuoco Quindi Attenti Per questo l'altra volta Me l'ha mandato KO Ehm Corbisquire Ehm Corbinite Scusate Allora Idrozer Tanto dovrebbe essere più veloce In qualsiasi caso Allora Dynamax Dynaflusso Ho sbagliato Dynamax Dynaflusso Su di te E tu invece Fai Overdrive E speriamo che me la mandi Bona Dynamax 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 Ok vabbè Questo è l'effetto del turbo fuoco Grazie mille Giga Charizard Per favore E adesso abbiamo praticamente finito Dynaflusso E ora Overdrive E tre lama Non farmi tentennare Complimenti campione Lottare con te è un'esperienza unica al mondo Come ricompensa per la tua vittoria Potrai salire di grado Alla torre lotta Sei incredibile Dream Ero sicuro Che superare il primo giardino Della torre lotta Sarebbe stato un gioco da ragazzi Per te E i tuoi pokemon Ma non pensare che sia finita qui Ti aspettano molte Molte altre sfide Qui alla torre lotta E abbiamo fatto anche quella in doppio Mamma mia quanto ci ho messo Ci ho messo tipo 20 minuti A fare dal grado 1 Vabbè ingenua Grazie Che aumenta velocità A scapito della difesa speciale 5 punti Grazie Comunque ricevo Ci ho messo Un casino Ci ho messo tipo 20 minuti da fare Dal grado 1 Fino al grado 3 Per arrivare lì Quindi pensate voi Quanto ci vuole Ora Quanti punti ho? Ne ho 46 Non bastano neanche Cosa posso comprarmi D'oggetti Tanto per Qualcosa praticamente Di inutile Tranne vabbè Il Distort servizio Che questo è utile Per la distorto zona E poi Vabbè Lo zaino fuga La sorbisfera Per preparare Nel caso Un mimichio E il tappo d'argento Nel caso Ok Allora Intanto voglio farvi vedere Ok Quella ingenua Vabbè Allora 19 caramelle rare Tutte queste Tanta tanta roba Vi danno Ve ne danno Veramente tante Comunque Avremo praticamente finito Sì Questo è l'episodio Ora piccola cosa Togliendo il Il pokemon Dal box Viene Viene rimosso Anche dalla squadra lotta Quindi state molto attenti Allora Tanto per te Dovi andare qua E basta Questo è l'episodio Comunque Piccola cosa Lì sopra Lì Useranno Tutte le combinazioni Possibili Useranno Ghigliottina Come si chiama Come si chiama poi Puro gelo Abisso Con O la gran lente O useranno Localizza Il mirino Di tutto Useranno Useranno Veramente di tutto Per colpirvi Ma soprattutto Piccola cosa Questa è l'ultima Giuro I pokemon Leggendari Questi due Sono immuni Totalmente Alle mosse Che one shot Non so perché Viene sempre scritto È immune Quindi Va bene Comunque No mi sono dimenticato Di farvi vedere una cosa Ovvero Ok Quella di Hope Che si è ottenuta Nello scorso episodio Che se non erro Ok È una nuova firma Quindi Quella di Hope Che si è ottenuta Ripeto Nello scorso episodio E quella di Dundle Quindi Abbiamo finito Non c'è altro da fare Quindi Nel prossimo episodio Di pokemon Spada Cosa c'è da fare Vi farò vedere I doni Quindi Niente Vi invito a iscrivervi A lasciare un mi piace O non mi piace E ci vedremo Nel prossimo episodio Alla prossima Ciao 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 Ciao